Benvenuti in Olanda. Cosa vuol dire crescere un figlio disabile? Prova a immaginare. Aspettare un bambino. È come pianificare una favolosa vacanza in Italia. Compri un mare di guide e sogni luoghi meravigliosi. Il Colosseo, il David di Michelangelo, le gondole di Venezia. Dopo mesi di attesa fai le valigie e parti. Molte ore più tardi l'aereo atterra e lo Stuart dice benvenuti in Olanda. Olanda? Cosa vuol dire Olanda? Io ho sempre sognato di andare in Italia. Ma sei in Olanda e lì devi stare. Non è un posto orribile. È soltanto un posto diverso. Alla fine devi uscire. Comprare una nuova guida, imparare una nuova lingua, conoscere nuove persone. E quando riprendi fiato, noti che l'Olanda ha i mulini a vento. L'Olanda ha i tulipani. L'Olanda ha il mare. Ma tutti gli altri vanno e vengono dall'Italia. E si vantano delle belle cose che accadono lì. E per il resto della vita tu dirai Anche io volevo andare in Italia. E il dolore per la perdita di quel sogno mai, mai, mai andrà via. Ma se trascorri la tua vita Rimpiangendo l'Italia Non potrai gioire Per le cose speciali e incantevoli Che offre l'Olanda. Rimpiangendo l'Olanda